Hey la Pokefanatici, io sono Dlarz e bentornati in questo nuovo video di apertura di carte Pokémon. Oggi siamo qui non con un'apertura normale, ma con un'apertura gigantesca. Infatti abbiamo la collezione rosso e blu di Blastoise. EX, dopo aver aperto quella di Charizard ad inizio serie, quello è stato il mio primo spacchettamento sul canale, anche quella di Blastoise è uscita. È uscita, a dir la verità, un po' di tempo fa, ma sono riuscito a procurarmela solo adesso. Adesso aspettiamo quella di Venusaur, che dovrebbe uscire ad agosto, e poi quella di Pikachu, che uscirà, mi sembra, ad ottobre o a settembre, non mi ricordo. Dunque, ricordatevi come al solito di lasciare un bel mi piace per supportare questa serie. Oggi un mi piace più che meritato, dato che abbiamo questa fantastica collezione enorme, con addirittura quattro buste, più due carte promo, una normale e una in versione jumbo. Direi di cominciare! Ce l'abbiamo fatta, andiamo a rimuovere tutto quanto dalla scatola, che è gigantesca, quindi si fa sempre un po' di fatica. Togliamo la copertura, andiamo ad estrarre la nostra carta, che è bella incastrata qui dentro. Eccolo qui, il nostro Blastoise EX, con rapigiro e bomba spruzzo, addirittura 180 HP. E qui abbiamo i nostri classici quattro pack, come vedete hanno escluso il povero Blastoise, andando a mettere addirittura due Venusaur. Non so perché questa cosa, sinceramente. E qui abbiamo la carta in versione grande, versione jumbo, di Blastoise EX, che farla vedere tutta nell'obiettivo è una cosa abbastanza impossibile. Quindi, rimuoviamo anche l'ultimo pezzo di plastica e siamo pronti a cominciare. Mettiamoli qui. Allora, direi che abbiamo due Venusaur, quindi iniziamo scartandone almeno uno di Venusaur. Vai con il primo, abbiamo quattro pack, speriamo veramente bene. L'ultima volta, con la collezione di Charizard, in quattro pack abbiamo trovato una sola EX. Quindi, eh, non vorrei non trovare niente, insomma. Sarebbe molto brutto. Iniziamo con Tangela, Zubat, Geodude, Energia, Buio, un Diglett, Reverse, Raichu, Ricostituente, Pokémon Fan Club, un Dedenne, molto bello, Olo, Reverse, questo della Radiant, e... Un Raichu Olo. Ok, almeno è Olo. Almeno è Olo. Ci accontentiamo per adesso. Secondo pack andiamo con Pikachu, che nell'ultimo video non ci ha portato moltissima fortuna. Maledetto topastro giallo. Hai oggi la tua occasione per redimerti. Per farmi trovare qualcosa di decente. Uno, due, tre. Uno, due. Guai a te, Pikachu, eh? Guai a te, Pikachu. Magmar, Diglett, Energia Lotta, Doduo, un Ghastly, un Flabebe, Shana, Scambio di Energia, un Floet della Radiant, Olo Reverse, e... Un Geridos. Pikachu, guarda, veramente, eh? Veramente. Adesso voglio che tutti quanti nei commenti scrivano hashtag Maledetto Pikachu. Dovete farlo, dovete assolutamente farlo, perché Pikachu è un maledetto. Due volte e non ci ho trovato niente. Non è che negli scorsi video ho trovato qualcosa mai nel pack di Pikachu, eh? È proprio sfortunato. Andiamo con l'altro di Venusaur. Sono rimasti solo due pack e io non ho ancora trovato niente. Che sia ricominciato il mio periodo di sfiga? Spero di no. Uno, due, tre. Uno, due. Ponita, Machop, Energia Elettro, Doduo, Butterfree, Snorant, Addetta del Centro Pokémon, Graveler... SIRVE ON IEX! E oddio! Oddio, ma che cacchio! Ma come? Come? No, ma... No, ci deve... Ma si possono trovare due IEX in un pacchetto? Come cavolo è possibile? Come cavolo è possibile? Come cavolo è possibile? No... Non ci credo! Non ci credo! Ma... Oh mio Dio! Cioè, non ho trovato una X nello scorso video e ne devo trovare due in un pacchetto! Ma dai! Cioè, ho sprecato dieci euro per la collezione di J-Rech e non ci ho trovato niente! Che poi, vabbè, peccato per Venusaur, è la seconda volta che mi esce... Ecco, guardate, sta qui l'altro, quello che mi è uscito nello scorso video... Eccolo qui! Ne ho due adesso! Ne ho due! Se avessi trovato Blastoise sarebbe stato il colpaccio del secolo, ma... No, ragazzi, no! No, 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 ragazzi! Non ci credo! Due X! In un pacchetto! Wow! Senza parole! Senza parole! Adesso dovete lasciare un mi piace per forza! Per forza! Andiamo a mettere Sylveon... Nella sua bustina protettiva, non facciamolo rovinare... E anche l'altro Venusaur... Oh mio Dio! Adesso ci manca solo che trovo un'altra X pure nell'altro pacchetto e siamo a cavallo! No, ragazzi, impossibile! Impossibile, ma vero! Ma... Ma si possono trovare due X in un pacchetto? Siamo pronti ad andare con l'ultimo pack, quello di Charizard, ma... Direi che sono anche abbastanza contento così! No, è stato fantastico! È stato fantastico! Adesso sicuramente ci saranno i bambini di turno che penseranno che io abbia tipo imbrogliato qualcosa Perché sono sicuro che ci saranno Sono sicuro che ci saranno Ultimo pack Miau Tangela Paras Raiorn Manutenzione Swablu Ricostituente Graveler Non è possibile! Non è possibile! Un'altra! Gardevoir EX Avevo trovato nel primo video Mega Gardevoir EX Non ci credo! Ma qua... No, vabbè ragazzi, ho preso la collezione di Blastoise Più fortunata che ci sia in tutto l'universo Ah, e ho trovato un Dodrio! Però bello, sì, interessantissimo! Ragazzi, cosa non ho sbustato in questo video? Tripla EX Tripla EX Se avessi trovato Blastoise al posto di Venusaur sarebbe stato ancora più bello Ma direi che non puoi pretendere di avere tutta questa felicità quando ne hai già così tanta Oh mio Dio! Non ci credo! Non ci credo! Non ci credo! Tripla EX Cos'è questo pack? Cos'è questo pack? Oh mamma! Pochi fanatici, direi che ci possiamo anche salutare qui con questo video incredibile Penso che con questa apertura mi sono riguadagnato tutti i soldi che ho speso per comprare la collezione di Blastoise Quindi sono molto contento Adesso il mio set sarà aggiornatissimo E non vedo l'ora di farvelo vedere quando lo completerò Perché ho comprato anche un raccoglitore da 9 tasche E vi farò vedere il set di generazioni quando lo completerò, speriamo Quindi per oggi vi saluto, ricordatevi di lasciare un bel mi piace Io sono contentissimo E noi ci vediamo in un prossimo video Bye bye